Vi anticipo che lo speciale TG in onda sabato 29 agosto verrà dedicato interamente ai test sierologici attualmente in svolgimento su due fronti particolarmente delicati. Da un lato l'aeroporto di Malpens ha visto l'alto numero di persone che stanno rientrando dalle vacanze e l'elevato numero di turisti di ritorno dai paesi considerati a rischio Covid, cioè Malta, Spagna, Grecia e Croazia. Dall'altro lato ATS Insubria sta convocando in totale quasi 30.000 tra docenti e personale amministrativo tecnico delle scuole, coloro che lavorano nelle province di Varese e di Como. Naturalmente si tratta di un appello facoltativo e si tratta di un monitoraggio che cerca di garantire un rientro a scuola più sereno possibile. Nella sola giornata di lunedì 23 agosto si sono registrati i seguenti dati. A Como 366 soggetti sono stati convocati, si sono presentati in 248 e uno solo di loro ha risultato positivo. A Varese sono stati contattati 410 addetti ai lavori, si sono presentati in 320 e i positivi sono risultati 9. A Buster Sizio i soggetti chiamati sono stati 323, i soggetti testati 277 e i positivi 2. Il basso numero di positivi, cui spesso corrispondono peraltro tamponi negativi, per i motivi più volte spiegati, rappresentano evidentemente un dato confortante. Un po' meno confortante a nostro avviso è l'alto numero di coloro che rifiutano di presentarsi. È vero che questo tipo di controllo è facoltativo, ma noi riteniamo che serva per forza un obbligo per affermare e dimostrare un senso di responsabilità. In fondo stiamo parlando di personale scolastico, cioè di lavoratori abituati ad avere a che fare con un luogo per eccellenza delicato, come le scuole in cui ragazzi giovani, giovanissimi o addirittura piccoli entrano ed escono tutti i giorni. A Como più o meno 80 persone hanno fatto sentire la propria assenza. A Varese sono stati 90, a Bustersitz una cinquantina. Ecco, ci auguriamo che si tratti di un dato sporadico e non definitivo, che nei prossimi giorni, vista l'ormai imminente apertura delle scuole, questi numeri possano totalizzare il 100% o quasi. Riteniamo infatti che chi ruota in un ambito lavorativo votato all'educazione, alla cultura, alla formazione delle nuove generazioni, debba in prima persona dimostrare senso civico e responsabilità.